Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi un evento particolare che si è tenuto a Genova nel mese di maggio. È una cosa a cui io non avevo mai assistito, mai partecipato, però mi incuriosiva. Si tratta di un evento tutto dedicato ai Lego. Quindi ci sono con questi piccoli mattoncini un sacco di costruzioni creative, anche alcuni pezzi tipici di Genova, come ad esempio la Cattedrale di San Lorenzo, la Lanterna, il Trenino di Casella, il Castello d'Albertis, tutte cose che comunque a Genova sono particolari, sono comunque iconiche della città, diciamo così. E io sono andata a vedere questa esposizione perché, come vi dicevo, ero curiosa, anche se non sono una grande appassionata di Lego, però comunque le cose un po' creative di questo genere mi incuriosiscono sempre. Quando ero piccola in realtà ci giocavo con i Lego, però non sono mai stata una grandissima appassionata, ma questa esposizione mi è piaciuta molto e quindi ho pensato di condividerla con voi. Vi lascio alle foto, ai filmati e ci vediamo dopo per i saluti. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti